Stamattina un papagallo che conosco, a cui do da mangiare sempre, mi ha attaccato. Adesso non si vede perché... Guarda questo cielo, guarda. Ma non capisce quello che sta succedendo? C'è? No. Beh, tutti questi animali impazziti, questo caldo mortale, non capisci? La parola piaga non ti dice niente? Piaga. Piaga, è Dio che cerca di dirci qualcosa. E con che cosa coincide, Pupa? Scusa, aspettami, che ho male ai piedi. Con che cosa coincide? Con la data del tuo concerto? Oh no, 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 già, non ce la posso fare. Ma sei tu, sei tu la colpevole, sei tu che devi fermare tutto questo. Io, io devo fermare il caldo, gli animali impazziti, la fine del mondo. Certo, certo. Ah sì, come, come, come dovrei? Come? Fermati, fine del mondo! Guarda, guarda, veramente non dovresti scherzare. Ah, meno male che sono di buon umore. Tu sei la, 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 la donna. Cucu! Cucu!